Purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Pronti a vivere le emozioni della sfida tra Juventus e Spal. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Intervento falloso, gara subito calda. Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Ah, conclusione da dimenticare. Traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere. Chiedira. Cerca la sovrapposizione. Ha controllato male, bravo qui il difensore. La rimessa già effettuata. Non vogliono perdere tempo. Pipita Higuain. Varagna metri. Occhio al filo di Higuain. Mattiello. Il pronostico per questo match sembra tutto dalla parte della Juve. Andrà a finire così? Difficile che i loro avversari possano ottenere un risultato positivo oggi. Staremo a vedere. Dybala. Recupera palla. Paloschi. Buona l'idea qui. La mette ne? Senza problemi qui il portiere. Matuidi. I padroni di casa possono vantare la difesa meno perforata del torneo. Se è vero che le squadre e i vincenti si costruiscono a fare una difesa, direi che loro ebbene sono a buon punto. Direi proprio i gol nel calcio. È fondamentale qui a Luigi. Salamon. Difesa costretta al rinvio per liberarsi dal pressing avversario. Venaziano. Chiedira. Higuain. Ci sono metri a disposizione. È stato fermato dal difensore. Palla larga. Punto alla porta. Macchiello. Antenucci. Ecco il tiro. Palo e non è finita. Attenzione. Givala. Higuain. La Juve a caccia del gol. Palla persa. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Higuain. Macchiello. Occhio al suo movimento. Azione interrotta. Paloschi. Trova. Buon intervento di Buffon. Difficile batterlo con i piedi del cielo. Iguain. Paloschi. Antenucci. Si libera dell'avversario. Guadagna metri verso l'area. Benatia. Recupera bene. Prova Gonzalo Higuain. Cerca la rete. Para senza nessun problema qui il portiere. Passaggio intercettabile. Ferma l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Intervento tempestivo del difensore che è in tazzetta al passaggio. Schiattarella. C'è spazio per andare. Viviani. Perde palla. Paloschi. Un altro pallone in mezzo. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. Paolo Di Bala. Iguain. Occhio. Cerca l'area di rigore. Vianic. Cerca l'appoggio al compagno. Viviani. Antenucci. Pianic. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Schiattarella. Paloschi. Stato fermato dal difensore. Samy Chedira. Paloschi. Si andrà avanti a giocare per altri due minuti. Chedira. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Antenucci. Varagna Metri. Lo ferma ma non controlla. E si chiude qui il primo tempo. Zero a zero alla fine dei primi 45. Calcio di inizio della ripresa. Con la Juventus in possesso. Ottima la lettura del difensore. che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Punta l'area. Ha spazio per andare. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Pianic. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Viviani. Matuidi. Pipita Higuaín. Pianic. Occhio al filo di Higuaín. ci sono metri a disposizione. Ci sono metri a disposizione. Ha perso il pallone. Paloschi. Samy Kedira. Schiattarella. Pipita Higuaín. si avvicina all'area. Matuidi. Colpito il pallone dal difensore. Conclusione senza angolo questa. Apre di testa. Cerca addirittura la porta. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Sta per arrivare il momento del cambio. La tocca per il compagno. Non è solo. Rimessa con le mani da buona posizione. Matuidi. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lato. Si ripartirà con un calcio di punizione contro la Juve. C'è aria di cambio. Schiattarella. Paloschi. Guadagna metri verso l'area. Costa. Hanno sprecato una buona opportunità. Si rimane dunque in parità. Sostituzione in arrivo. Aleksandro. C'è il lancio sulla fascia. Matuidi. Schiattarella. Kurtic. Puntuale qui il difensore nel recupero. Matuidi. Vediamo cosa decide l'arbitro. Bernardeschi. Matuidi. Occhio al prova al Pipita. Murat, palo e gol. Rivediamo il tiro che ha portato al gol. Palla che ha picchiato contro il palo prima di entrare. Un colpo da Vigliaco da parte dell'attaccante. Preciso, bravo e fortunato in questa circostanza. si ricomincia con i bianconeri che sono avanti adesso nel punteggio. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Pianic. Pipita Higuain. La Juve a caccia del gol. Ha perso il pallone. Higuain. Prova da fuori. Ha provato a giro. Palla che è finita abbondantemente sul fondo. Eh sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto. Ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Si riprenderà dunque con un faro laterale. Salamon. Viviani. Paloschi. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Matuidi. Pipita Higuain. Viviani. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta. Occhio al tiro di Higuain. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto terminando la sua corsa lontana, lontana. Pallone che finisce. Pallone che finisce la mia voce. 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 600 secondi da giocare ancora. Schiavon. Matuidi. Viviani. perfetto oggi dei passaggi bravo qui il difensore che legge bene questo pallone punta l'area e c'è la presa sicura del portiere Kurtic Schiavon Paloschi Bernardeschi ci sono metri a disposizione occhio al Pepita che avrà prova il Pepita ribatte il difensore Pjanic pallo ancora in gioco pericolo Lazzari sono tre i minuti di recupero provano con la forza della risperazione ad arrivare al pari mancherà vero poco Schiavon Paloschi questa può essere l'ultima occasione per pareggiare occhio al calcio d'angolo torna il battuto in mezzo la difesa la meglio e allontana il pallone non c'è più tempo arbitro che manda le squadre e gli sfogliatori se hanno vinto se hanno vinto devono certamente ringraziare i propri difensori la solidità difensiva è la base dei grandi successi direi quando puoi contare su una difesa quasi insuperabile tutto diventa più facile bella vittoria dei padroni di casa che si confermano davvero solidi ormai chi viene in questo stadio con l'obiettivo non ha solo quello di portare a casa qualche punto ma di segnare almeno un gol grazie a tutti occhio al pipì prova al pipì da Murato palo e gol grazie a tutti 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 è tutto pronto dopo i 90 minuti dell'andata per la sfida di ritorno Coppa e ovviamente grande adrenalina in campo un saluto da parte di Pierluigi Bardo e il saluto di Stefano Nava sta per avere inizio la sfida fra Spal e Juventus match di oggi con la Juve protagonista che ne pensi del momento bianconero Stefano? quest'anno puntavano alla Coppa ma finora l'obiettivo sembra di fuori della loro portata devono fare qualcosa di speciale per tornare in corsa tutto pronto si parte vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa hanno scelto di affidarsi al 3-5-2 per la sfida di oggi che ne pensi Stefano? una scelta direi di bala occhio cerca l'area di rigore Douglas Costa intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla intervento del difensore che concede la tush Matuidi intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio Antenucci baragna metri verso l'area schiattarella grande parata questa sarà corner sarà corner a difusione a difusione occasione vediamo tutta la sua disperazione mamma mia che occasione questa Pier Chiellini schiattarella riviani riviani maragna vetri il tocco dentro prova a pressare schiattarella 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 pericolo ed entra in rete gol e con questo gol si riportano in perfetta parità qualificazione più che mai incerta è un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi davvero un bel calcio in angolo palla in rete dopo la battuta dalla sinistra ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 schiattarella Viviani Paloschi puntuale qui il difensore nel recupero occhio al suo movimento riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio palla nuovamente in possesso Mattiello si avvicina all'area sventa qui la minaccia conquistano una buona posizione e una posizione interessante diviarete splendida rete un gol che potrebbe valere la qualificazione ma occhio non rilassarsi perché basterebbe subirne uno per essere fuori conclusione che si è tirata sotto la traversa come possiamo apprezzare meglio del replay il potere non poteva farci niente qui pianic ci sono metri a disposizione buona la chiusura Antenucci Pjanic Douglas Costa metri per Douglas Costa palla schizza via dopo il contrasto rimessa laterale a disposizione della Juve Pjanic chiellini punta l'area ecco il tiro palla respinta dal difensore si riprenderà con un tiro dalla bandierina se segnano ovviamente poi passano il turno per i gol fuori casa la mette in mezzo di Bacchiellini la risposta del portiere sul colpo di testa Iguai attenzione al Pipita che è solo e il pallone entra ed è gol gol importantissimo che oltre a pareggiare i conti sposta la qualificazione dalla loro parte grazie ai gol segnati in trasferta splendida davvero la rete di Gonzalo Iguain sono d'accordo Piat ha avuto la palla buona e non l'ha sbagliata il punteggio adesso è di 2 a 1 schiattarella buona la lettura del difensore su un brutto passaggio Pipita Iguain c'è spazio per andare occhio al Pipita che avanza Viviani schiattarella schiattarella baragna metri verso l'area contrasto riuscito palla che rotola via ci sarà la rimessa dal fondo Salamon occhio al pressing Fiorga and Antenucci Palla recuperata dalla Juve Buono in là, prova la botta E il pallone finisce il gol Un gol che dà loro il vantaggio e gli permette di giocare in maniera più sciolta Ora la squadra avversaria sarà costretta ad attaccare e a scoprirsi Si sono portati avanti adesso nella doppia sfida Dovranno difendere questo risultato Gol che ci viene mostrato da altra angolazione Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali Due a due il risultato Schiattarella Paloschi Baragna Metri Attenta la copertura di Beratia che recupera Ci saranno tre minuti di recupero Pipita Higuain Douglas Costa Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone Interrompe bene l'azione intercettando il lancio Palla vagante adesso L'arbitro dice che può bastare 2-2 al termine di un bel primo tempo Che qui ti è piaciuto Higuain e il pipita Stefano? Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui Ne ha fatti due nella prima metà di gara e punterà almeno la tripletta nella ripresa Bravo Paloschi Pericolo Ecco il tiro Viviani Higuain Attenzione al pipita che è solo Buono il lancio Trova la botta Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo Occhio al suo movimento Per malazione recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta Ci sono metri per i giocatori della Juve qui L'appoggio di testa al compagno La Juve a caccia del gol Prova da fuori Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori Antenucci Va con il possesso Palla Paloschi Opportunità Paloschi Bella parata che gli nega la doppietta Hai detto proprio bene, giusto E sarà calcio d'angolo Occhio al corner Senza problemi Qui la difesa Viviani Paloschi Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio Di Bala Guadagna metri verso l'area Pallone controllato senza difficoltà dai difensori Costa Capisce tutto che dira Buona la chiusura Riconquista Palla intercettando la traiettoria del passaggio Splendido intervento difensivo Costa Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Ha riconquistato Palla Punta l'area Prova la conclusione Ha provato a piazzarla Buona l'idea Meno l'esecuzione Non era facile inquadrare la porta Dalle conclusioni che è terminata lontana dai pali Senza creare problemi al portiere Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi E ci sono gli applausi Una vera e propria standing ovation per lui Ha giocato una buona partita per lui Attento Concentrato Kurtic Un'altra buona giocata Occhio cerca l'area di rigore Attenzione pericolo E c'è il gol Palla in rete Situazione di perfetta parità Tra gol fatti e subiti Ma la regola dei gol in trasferta Favorisce al momento La formazione avversaria Siamo assistendo a un match davvero emozionante Sul risultato di 3 a 2 Buono il pallone di Marchisio Spazzano senza problemi Matuidi Palla troppo lunga Che viene raccolta senza problemi dal portiere Matuidi Deve aver preso una brutta botta L'arbitro ferma il gioco per verificare le sue condizioni Ah mi auguro si tratti solo di una forte contusione Gioco che riprende dopo un'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone Beh immagino che la restituiranno alla squadra avversaria adesso Mangiukic Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara Iguain Contrasto riuscito Palla che rotola via Viviani Paloschi Tocco impreciso Pallone recuperato Ci sono metri a disposizione Azione interrotta Schiavon Paloschi Palla schizza via dopo il contrasto Passaggio intercettato Antenucci Si fa spazio Ottima lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone Iguain Perdono palla L'azione sembrava interessante Buono il De Valle Schiavon Baragna metri Cerca il traversone Pallone che si impenna e che termina sul fondo La colpita con la parte alta della testa Difficile indirizzarla così Matuidi 600 secondi da giocare ancora Iguain C'è spazio per andare Prova dalla distanza Ottimo intervento difensivo Kurtic Paloschi Ci sono metri per andare Paloschi Si libera dell'avversario Antenucci Non ha inquadrato il bersaglio per un niente Beh questa era un'occasione da sfruttare Non ci sono altre parole Ha provato a piazzarla Sì ma forse avrebbe fatto meglio A calciare di potenza Mario Mandzukic Ma Juve a caccia del gol Prova la conclusione Ha provato a giro Palla che è finita abbondantemente sul fondo Eh sì La conclusione Non ha preso l'effetto voluto Ne è uscito fuori un tiro Completamente sballato Palla vagante Buona triangolazione Paloschi Antenucci Ed è calcio di punizione Buona l'intervento del difensore Che spazza via Viviani Saranno due minuti di recupero Pipita Higuain Manovra interrotta dagli avversari Schiavon L'arbitro dice che può bastare L'arbitro fischia dunque Ragni a metri verso l'area Schiattarella Grande parata questa Paloschi Pericolo Ecco il tiro Viviani Higuain Attenzione al pipita Che è solo Buono in lancio Trova la botta Opportunità Paloschi Occhio cerca l'area di rigore Attenzione Pericolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti